Fatica la faceva, tanto quanto i primi, fatica la faceva e gli dicevano prendimi, fatica la faceva, non aveva scelta, tutta ce la metteva e l'amice andava svelta, ma prima del traguardo il passo rallentava e nel suo stanco sguardo qualcosa lui provava, era ansia di arrivare e rallentava il pedalare per quei regali parte del giro che lui gravava con gran sospiro perché all'ultimo il giro voleva bene e nel suo intimo pensava arrivare ultimo, conviene. Doni in abbondanza, cibo di fragranza, salumi e ortaggi vari, questi li guadagnavi. E a casa poi tornavi, pieno di regali, la gara dimenticavi, ma la famiglia la sfamavi. Erano premi di una lotteria che il pubblico creava perché all'ultimo che anomalia nulla aspettava. Giorno e notte ci pensavi, se ultimo arrivavi, penultimo e terzultimo ti brutto li fregavi. E questo tuo talento sviluppato con potento ancora oggi è una leggenda che nessuno più la spenga. E questo tuo talento sviluppato con potento ancora oggi è una leggenda che nessuno più la spenga. E questo tuo talento sviluppato con potento ancora oggi è una leggenda che nessuno più la spenga.